Sono in tribuna vicino a me qua, direi che è giusto dedicare a tutti i miei tifosi questo gol per questo anno e ci sono contento, ho fatto finalmente il primo gol. Hai fatto gol sotto la curva come a Brevo, come a Dortmund. Dimmi? Hai fatto gol sotto la curva come a Dortmund. Sì, sono contento perché oggi sono venuti in tanti e loro vedevano vedere un Udinese forte e oggi abbiamo fatto una grande gara. Mi sembra che il primo tempo loro in Cesena vi ha messo parecchie difficoltà perché riuscivano a giocare abbastanza stretti e molto aggressivi, non riuscivate a far girare neanche palla. Sapevate che però anche non poteva durare tutta la partita? Questo no, ma sapevamo loro in casa, hanno giocato sempre bene e poi il primo tempo possiamo dire che siamo stati in parità, perché anche loro hanno messo tanto in difficoltà a noi. Noi abbiamo creduto fino a fine, il secondo tempo ha cambiato tutto. Il secondo tempo abbiamo corso anche tanto, però avevate più sparsi. Sì, poi ritmi alti, è stato secondo me il chiavo.